Ciao ragazzi, sta arrivando un treno, non sto capendo chi è Sembra che sia un pop, perchè gli ho scommesso che sia un pop Ok, si raga è un pop Sono io quello stupido Che magari non si capisce dalla videocamera Però è un pop Sentiamo anche dal rumore che è un pop Perchè molti pop vanno a Ravenna Ecco, ci saluta anche Anche a Ravenna è questo Ve lo dico io, c'è anche scritto E' l'11482 Adesso forse ci darà un buongiorno o qualcosa No, no, quello là era il capotreno, ok Cos'è questo è un ETR-103 Sì, perchè chi non lo sapesse Come si chiamano i 400 ETR-104 Sono quelli da 4 carrozzi dei pop Invece Ehm, i ETR-103, cioè questi Sono quelli da 3 carrozzi Nel treno Io raga scommetto addirittura la videocamera Ma anzi, ho scommetto il mio canale YouTube Che ne ho tanti Ho scommetto il mio canale YouTube Che per me è almeno, almeno, almeno Questo ci dà una strombazzata Spero che non ci dà la tromba forte Se no Chi è quello fottuto? Forse io, oppure no Ecco, magari cosa stai facendo Magari vuole... Non so se censurarlo oppure no Non lo credo di no Però se il treno magari parte La domanda è che io non ho l'orologio E non posso spegnere la videocamera Per esempio, se no Ragazzi, lo speciale 1 iscritto Partirà, certo Ci arriverà, non partirà Ci sarà anche lo speciale dei 5 iscritti Purtroppo abbiamo certo 2 ai 10 iscritti Pur sempre io, come dico in ogni video Scusate Tengo bene la videocamera Io, come dico sempre Di arrivare almeno ai 100 Ai 1000 iscritti Oddio, quello lì ci dà una strombazzata Ecco lo dico che ci dà strombazzate Strombazzate, strombazzate Strombazzate, strombazzate Tata, no, bla, ecco Quindi Molci Odia E come andiamo? Ok Stiamo indietro che questo Della claccionata ne dà Perché il pop Non è un treno Carino E' carino, certo Vediamolo come E' un puffolotto Di gran lunga Posso dirlo Eccoci da anche le luci Non clacsonare Ti prego Bravo Un passo Cioè almeno Vai Ecco ragazzi Ah Forse il porto dell'aria Non so Beh, non capisco Il pop è là Non so Di manco in mare Perché Tutta cosa Tutta cosa Tutta cosa Tutta 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 La mia Vena domanda E Vabbè Ciao Ciao ragazzi Secondo video vi è piaciuto Iscriviti Ricordo di iscrivervi al canale Facendo un bel mi piace Scrivetevi al mio altro canale youtube Scrivetevi su instagram Peter Chris 55 Io ragazzi Vi voglio dire una cosa Secondo i miei altri canali youtube Scrivete questo canale Federico 656 Camimano Adesso Riprenderò i binari Federico 656 Camimano Fede Train E Claudio Tomesani Io ragazzi Vi do un grande saluto E ragazzi Usirà fra un po' Federico E 652 Tigre E ragazzi Vi dico Sono appassionato i treni Questa stazione di Cateo E ragazzi Vi mando un bacione grande grande Al mio prossimo video Ciao ragazzi Vi voglio bene